Buongiorno, l'ultima battaglia oggi. Ora, è difficile seguire una presentazione, una relazione, una lezione davvero ottima. Mi è stato però chiesto di parlarvi un pochino delle possibilità dell'Italia di abbandonare l'Eurozona. Vorrei sottolineare che questa non è necessariamente la prima opzione. Anzi, direi che forse probabilmente è l'extrema razza, l'ultima che dovrebbe essere presa con le pinze quando tutte le altre opzioni si sono rivelate infattibili. Lo dico perché effettivamente non è che ci siano delle alternative tantissime tutte semplici e non penso neanche saremmo onesti se indorassimo troppo la pillola. Si tratta anche di una valutazione politica in ultima analisi, questa che è una valutazione che voi, voi popolo italiano, dovete fare. Io credo sarebbe anche un po' presuntuoso, eccessivo, che io straniero vi dessi un consiglio definitivo su quale corso intraprendere. Quindi direi che vi potrei parlare di alcune opzioni, alcune specifiche relativamente a ciò che succederebbe se l'Italia abbandonasse l'Euro. Io ho un articoletto che è sentito all'uscire dall'Euro. Intanto dovrebbe accadere questo in primis. Ora, per uscire dall'Euro, per un paese, diciamo, per poter riguadagnare la propria sovranità in termini di moneta, ecco i cambiamenti che dovrebbero verificarsi. In primo luogo, bisognerebbe reintrodurre una nuova valuta o la vecchia lira in una condizione di monopolio e di emissione monopolistica. All'interno di questa nuova valuta, il Governo nazionale potrebbe acquistare tutto ciò che fosse in vendita in quella valuta, proprio fra cui anche la forza lavoro, i disoccupanti interni in Italia, in questo caso. Allo stesso tempo, la banca centrale italiana riceverebbe una restituzione del capitale che aveva dovuto attribuire alla banca centrale europea. Inoltre, riceverebbe la banca centrale d'Italia anche tutte le riserve in valuta estera che erano state trasferite al sistema Unione Monetaria Europea. La banca centrale del Paese a questo punto riguadagnerebbe il controllo della politica monetaria, ne sarebbe responsabile, che significa che sarebbe essa e non il mercato dei titoli di Stato a definire i tassi di interesse lungo una certa curva di rendimento e aggiungerebbe riserve bancarie se necessarie. Ora, da questo punto la cosa si fa un po' più complicata. Chiaramente esistono dei debiti sofrani attualmente che sono comunque denominati già in euro. E questo è un problema, un problema però per il breve termine. Perché la nazione che vuole uscire, l'Italia ad esempio, deve a questo punto far fronte a un problema di debiti in valuta estera. Ora, alcuni dei trasferimenti dalla Banca Centrale Europea alla Banca d'Italia in parte compenserebbero effettivamente l'esposizione in euro che l'Italia dovrebbe in un qualche modo risolvere una volta uscita dall'euro appunto. Però, non vi voglio mentire, questo farebbe parte di un processo di aggiustamento, di adattamento doloroso e probabilmente voi in ultima analisi potreste anche dover incorrere in un default. A questo punto probabilmente dovreste anche entrare in una sorta di accordo, arrivare ad un accordo negoziato per cui i creditori accetterebbero la vostra o la vostra valuta locale oppure niente. Questo è forse uno dei problemi che alcuni dicono che i mercati finanziari renderebbero praticamente impossibile l'uscita di un paese dall'euro. Parlano ad esempio del fatto che le agenzie di rating temutissime declasserebbero un paese in caso di default e causerebbero quindi interessi ancora superiori sul debito locale. Ora, la mia reazione risposta è che comunque lo stanno già facendo. Quindi niente di nuovo. Inoltre, direi che noi stessi siamo stati declassati negli Stati Uniti. I costi in realtà, in questo senso, si sono ridotti dal declassamento. Ora, ricordiamo che queste sono le stesse organizzazioni che chiamavano, davano la tripla A a dei mutui tossici subprime, già nel 2007 lo facevano. E probabilmente, forse Berlusconi ha più credibilità delle agenzie di rating ormai. Ora, potremmo tutti dire che in realtà è importante mantenere la sovranità sulla valuta, fondamentale. Però, questo non è che ti dia margine di manovra per fare di tutto, tutto quello che si vuole. Quando parliamo per seguire la finalità del bene pubblico, cosa che seguiamo nell'MMT, noi cerchiamo di individuare delle modalità in cui il Governo possa spendere per promuovere l'occupazione. Come minimo, si tratta di creare posti di lavoro, programmi di garanzia dell'occupazione nel settore pubblico per i disoccupati, in modo tale da poter creare e generare una vera crescita della produzione, dell'output. Il Governo deve utilizzare la sua nuova libertà, neo guadagnata libertà economica, per poter far progredire proprio il bene pubblico, il benessere dell'intera collettività, senza invece favorire attività non produttive. E cosa dico, cosa intendo per attività non produttive? Beh, intendo ad esempio grande concessioni a banche zombie, che fanno uso per i loro fini dei denari pubblici. Noi vogliamo invece che il denaro arrivi a Main Street, cioè alla via dei negozi, alla comunità, non a Wall Street. Ora, ovviamente ci saranno anche dei problemi pratici che sono coinvolti nel ritorno alla lira da risolvere. Ad esempio, in primis, bisognerà in un qualche modo emendare i codici dei computer. Però avete già avuto qualche esperienza in questo senso, quando, se l'altro ricorderete, il famoso bacco del millennio. Si è dovuto lavorare tanto per far sì che non avessimo un crollo totale dei nostri sistemi computerizzati nel 2000. E come potremmo sostenere la nuova valuta o la nuova lira, appunto? Beh, il governo italiano dovrebbe a questo punto annunciare che potrebbe incominciare, intanto imporrebbe tasse soltanto nella nuova valuta, in lire. Poi il governo dovrebbe anche annunciare che tutti i pagamenti dello Stato sarebbero stati in lire, saranno in lire, non in euro. Questa è la cosa fondamentale. Il governo a questo punto può continuare a finanziare in maniera sostenibile, proprio perché in qualche modo pensa a se stesso. E quale sarebbe il valore della nuova lira? Beh, questo dipenderebbe un pochino di qui che i mercati hanno un ruolo. La nuova valuta dovrebbe effettivamente avere un tasso variabile. Il tasso di cambio avrebbe essere determinato da compratori acquirenti al prezzo di mercato. Ora, a proposito del debito in euro esistente, beh, direi che questo sarebbe argomento di negoziato, l'ho già anticipato. Però a questo punto il margine di manovra sarebbe in mano al governo italiano, non ai mercanti. Ora, il processo sarà lungo, potrebbe essere molto lungo. L'Argentina c'è ancora in mezzo, sta ancora negoziando e sta cercando di trattare per dei debiti che aveva quando, dal 2001 in poi. Questo però non ha impedito all'Argentina di crescere o di funzionare dall'ora in poi. Come un'economia reale, renta. Lo stesso vale per la Russia. C'è stato il crollo del rublo del 1998, da 6 a 28 contro il dollaro. Ci volevano 28 rubli per un dollaro. Il sistema bancario era praticamente, è rimasto però poco toccato, perché il mercato capitale non ha potuto funzionare per qualche mese. Questo è vero. Ma oggi c'è ancora il rublo, ci sono ancora un sistema bancario russo e la Russia è sopravvissuta. L'altra domanda che uno potrebbe porre è cosa fare dei depositi in euro e dei mutui in euro? Beh, rimarrebbero in piedi. Niente impedisce all'Italia, agli italiani, di utilizzare gli euro o di avere depositi o conti in euro. Come non ci sarebbe niente che vi impedisca di avere dei conti in dollari o in sterline? Panama ha deciso di dollarizzarsi, di adottare il dollaro. Ora, niente di ciò che gli Stati Uniti possono fare può impedire a Panama di continuare a usare il dollaro. E qui io ritengo che sia importante il programma di garanzia dell'occupazione di cui ha parlato Aurora Stefani. Qui è importante. Io ritengo che sia assolutamente essenziale, fondamentale, che questo sia uno dei primi programmi che venga introdotto dal governo italiano, perché la prima cosa che assolutamente bisogna fare è garantire che ci sia una disoccupazione minima. E per qualunque governo le imposte, le tasse, dovrebbero essere modificate per garantire che la forza lavoro che ricevono una certa retribuzione non venga tassata troppo, quindi tasse meno possibili. Ricordiamo, le vostre imposte a questo punto non finanziano più la vostra spesa di governo. Avete una libertà fiscale. Si sente anche parlare a proposito di evasione fiscale, come si possono far rispettare invece il pagamento delle tasse. Personalmente io penso che sia un problema un pochino sopravvalutato in Italia. Penso però che si possa massimizzare l'adesione diciamo al pagamento delle tasse, introducendo ad esempio un'imposta nazionale sulla terra, sugli immobili. Perché è molto più difficile evadere, non è che uno nasconde un appartamento facilmente. Mi sembrerebbe che imporre gli immobili potrebbe essere un modo migliore per ridurre l'evasione. L'adesione al pagamento delle tasse verrebbe essere ottimizzata perché se l'imposta non viene pagata allora semplicemente lo Stato potrebbe espropriare e poi vendere all'asta il bene. Tutti potrebbero contribuire in questo modo e i costi verrebbero assorbiti dai proprietari degli immobili. e questo potrebbe anche permettere di ridurre altre imposte, l'IVA in particolare, che penalizzano le spese. L'IVA è assolutamente recessiva come imposta. Infine direi che tutti i depositi in banca in lire verrebbero assicurati dal governo. Io non assicurerei i depositi in euro ma io invece assicurerei i depositi in lire. Le banche verrebbero regolamentate e sottoposte alla supervisione del governo, dello Stato e non potrebbero incorrere in attività di mercato secondario il che significa che nessun derivato basta basta con gli swap di default al credito e neanche nessun tipo di transazione contro i clienti delle banche. Le banche esistono per prestare, per erogare capitale, per dare dei fondi ai consumatori, alle aziende a ciò che l'economia possa crescere. Non per andare contro il benessere dei consumatori come sta accadendo oggi. E in questo senso comprendo anche quei requisiti di capitale sostanziali, quelli che ci sono adesso, 15-20% sulle banche. Ora, sono alcuni suggerimenti specifici che ho a proposito dell'uscita dell'euro. So che ne parleremo anche un pochino più tardi durante la tavola rotonda, ma questa poteva essere una buona introduzione visto che si sono fatte tante richieste ieri a proposito di questo, dell'uscita dell'euro. Vi ringrazio per l'attenzione. Sono completamente d'accordo con Marshall e sono ancora più optimista di lui. In primo luogo, è ovvio che è ovvio che il sistema esistente, il sistema attuale, è assolutamente insostenibile. Lo sanno tutti. Siamo entrati in una fase assolutamente senza precedente alcuno. Per mantenere artificialmente il valore del debito italiano o anche del debito greco o del debito spagnolo, bene, per far questo la Francia e la Germania impongono programmi di austerità crescente su questi paesi. facendo ciò Francia e Germania contribuiscono a distruggere, a deteriorare ulteriormente l'economia italiana, il che a sua volta porta a delle aspettative sempre più pessimiste, il che comporta deflazione e così via. Ne consegue quindi che secondo me la soluzione unica è quella di ripristinare la sovranità italiana sulla valuta, rimettere in piedi proprio la capacità che l'Italia ha di ricostruire la propria società. proprio grazie ad una spesa pubblica produttiva che a sua volta permetta di ripristinare la piena occupazione, di ricostruire i servizi pubblici e di rimettere in piedi una struttura industriale. Il successo ritengo sarà garantito e ci sono molte ragioni. la prima è che gli italiani non possono non ricordare che grazie al loro deficit cosiddetto insostenibile hanno creato invece enormi utili netti per le aziende tedesche. Questo non può essere dimenticato. Questi utili che hanno apportato benefici per le aziende tedesche sono stati appunto garantiti e risparmiati. Come? Acquistando dei titoli di Stato emessi dalle banche tedesche e in un qualche modo così le banche tedesche sono indebitate nei confronti dell'Italia. Quindi l'Italia dovrebbe assolutamente pretendere di essere rimborsata di queste risorse che sono state investite nelle banche tedesche. ci potrebbe anche essere un qualche flusso enorme in entrata verso l'Italia appunto. Penso quindi che al contrario di ciò che molti ritengono io penso che subito ci sarebbe e ci sarà una una forte svalutazione dell'euro rispetto alla nuova valuta italiana e c'è dell'altro perché se l'Italia decidesse di abbandonare l'eurozona ne conseguirebbe senz'altro uno sciopero proprio e arriva a dire che molto presto molti paesi seguirebbero l'esempio italiano in questo caso Portogallo Spagna la Grecia e forse anche la Francia la pressione monterebbe sui governi una pressione per un abbandono a favore di un abbandono di questa politica che è in ultima analisi una politica distruttiva l'Italia effettivamente potrebbe avere senza problemi un deficit produttivo sono deficit questi che potrebbero in ultima analisi fungere da contrappeso e essere speculari all'emissione di titoli di Stato e sono assolutamente d'accordo con Stefani i titoli nel nuovo sistema come già accade negli Stati Uniti non finanziano direttamente non finanziano la spesa pubblica ma cari amici potrei però prevedere che tutte le banche al mondo cercheranno di avere una quota dei nuovi titoli italiani dei nuovi titoli di Stato emessi dall'Italia cercherebbero di accappararsene così lo Stato italiano sarebbe non solo diciamo libero dalla morsa d'acciaio dei cosiddetti mercati finanziari ma potrebbe essere padrone dei mercati finanziari stessi e coloro che detengono debiti in euro tutti costoro sono consapevoli ben consapevoli del fatto che l'euro è un sistema in agonia che il suo valore è mantenuto tale in maniera del tutto artificiosa e quindi saranno questi che hanno in mano del debito in euro saranno ben felici di scambiare questi titoli di debito che hanno il debito che l'Italia ha in euro con i titoli invece di debito che l'Italia potrà emettere nella nuova valuta un tasso di interesse peraltro anche molto più basso ed infine la Francia e la Germania probabilmente e probabilmente la Germania da sola rimarranno appunto solo solo la Germania con anche paesi satelliti come l'Austria come i paesi bassi il Belgio ora con il recupero dell'economia italiana le esportazioni però tedesche potrebbero crollare e contrariamente una volta ancora quello che molti sostengono ci sono in Germania sempre più oppositori al sistema euro lo so per certo conosco persone nel cosiddetto consiglio economico del governo tedesco che sono in pieno accordo con le idee keynesiane post keynesiane mmt e circuitiste la coalizione tedesca è una coalizione in realtà molto fragile la politica attuale è imposta dal partito liberale tedesco che è un partito che potrebbe essere in realtà considerato il partito dell'aristocrazia in realtà il portavoce delle aziende però sono davvero terrorizzati dall'idea che il ministero dell'economia sia ora pronto ad andarsene per diventare presidente della repubblica federale tedesca e quindi questo significerebbe sì che l'italia deve abbandonare l'euro significa che questo potrebbe comportare per l'italia un salvataggio il popolo italiano verrebbe salvato ma se verrebbe salvato anche il popolo europeo e anche l'economia mondiale vi invito a fare più un tipo di discussione un po' più viva fra di voi più brevi magari gli interventi e soprattutto ricordatevi sempre che vorremmo capire noi come persone come famiglie letteralmente come lavoratori come piccoli artigiani negozianti che cosa succede con il default quindi più che in macro aspetti ci interessa proprio la quotidianità del default eventuale dell'Italia make it more lively io vi parlerò anche dei piccoli aspetti ma vorrei darvi un quadro politico del motivo per cui l'Italia potrebbe uscire dall'euro e anche delle modalità in cui potrebbe farlo quindi la domanda è perché l'Italia ha voluto partecipare io credo che sperasse in qualche modo che l'adesione all'euro potesse risolvere alcuni dei suoi problemi nazionali cioè speravano che l'Europa avesse un'influenza civilizzatrice che l'aiutasse a risolvere problemi di corruzione politica di corruzione fiscale la sua cattiva struttura finanziaria soprattutto quella delle proprie grandi banche ma la realtà dei fatti è che l'Europa può imporre solamente austerità fiscale finanziaria a prescindere da quanto accade l'Italia dovrà risolvere da sola i propri problemi politici e bancari quindi dovrà gestire delle sue grandi famiglie la situazione della sua oligarchia e della sua finanza predatoria lo dovrà fare da sola ovviamente l'Europa non vi potrà aiutare perché l'Unione europea è dalla parte delle grandi banche e dei grandi interessi finanziari contro di voi quindi mentre si discutono le alternative alla permanenza nell'euro credo che vada detto che se uscite non sarà per una debolezza non sarà per un default ma perché vivete in una posizione principale e ve ne andate non abbandonando l'euro ma dicendo che l'Europa ha abbandonato l'euro che l'Europa è stata fatta prigioniera dalle banche e invece andreste a dire ecco come dovrebbe funzionare l'Europa voi qui potete delineare una dichiarazione di indipendenza su come dovrebbe funzionare una buona Europa anche indicando la strada verso una nuova Europa una buona Europa non questa strada fallimentare verso una cattiva Europa la cosa importante da riconoscere è che ogni economia è pianificata la questione è chi si occuperà della pianificazione saranno come diceva Marshall i governi i governi a nome dei principali interessi costituiti a aiutare la crescita l'occupazione oppure sarà pianificato da Wall Street oppure ancora peggio dai banchieri europei oppure ancora peggio sempre più predatori sempre più malvagi rispetto a quanto io abbia mai visto a Wall Street in passato quindi la pianificazione bancaria è orientata verso l'austerità non certo verso il progresso economico al contrario di quanto affermano i quotidiani la pianificazione bancaria vuole che i governi abbiano dei deficit i neoliberali vogliono avere un deficit più grande rispetto a quanto sia mai accaduto in passato e avete visto dalle tabelle di Stefani che i deficit negli ultimi tre anni sono stati qualcosa di veramente enorme creando in quello che lei ha definito il settore privato ma che cosa possiamo dire a proposito del settore privato non è stato il mercato del lavoro non era l'industria sono stati semplicemente dei salvataggi nei confronti delle banche il settore privato si è suddiviso in settore finanziario ed economie ospiti di produzione e di consumo quindi io credo che se state pensando a redigere a pubblicare una dichiarazione di indipendenza economica e politica dicendo come dovrebbe essere l'Europa la politica fiscale della banca centrale europea che è di fatto il governo europeo dovrebbe essere sostituita dal Parlamento oggi la banca centrale europea dice noi vi diremo come devono essere le vostre politiche fiscali noi delle banche centrali vi diremo quale sarà la politica di lavoro noi vogliamo la disoccupazione loro vi diranno quali dovranno essere le vostre politiche pensionistiche cioè di smettere di pagare le pensioni in modo che i datori di lavoro possano pagare le banche invece appunto loro vogliono una banca centrale dipendente una banca centrale governata dai governi a nome del popolo e non per le banche commerciali che vogliono sostituire la democrazia con l'oligarchia un vero governo socialdemocratico sarebbe un governo socialista come ha spiegato Stephanie avrebbe un deficit per pompare l'economia la spesa controciclica per far crescere l'economia e far crescere l'occupazione si chiama iperinflazione così la chiamano i neoliberalisti dare da lavoro a mano d'opera italiana significa fare dell'Italia lo Zimbabwe dovete rendervi conto di quale sia questo doppio pensiero orvegliano a cui fanno ricorso la politica dovrebbe essere una riforma del mercato del lavoro una sicurezza del lavoro e la politica fiscale dovrebbe prevedere la detassazione del lavoro ripristinando il sistema di tassazione italiano a quello immobiliare e alla ricchezza abbandonando il sistema di IVA che è il sistema più inefficiente passando invece a un sistema di tassazione della ricchezza e delle proprietà immobiliari e da ultimo per quanto riguarda il deficit di spesa del governo se l'Europa vi dice di bilanciare il bilancio quindi di trovare un pareggio di bilancio dovete dire ok noi lo faremo ritirandoci dalla Nato e quello gli metterà una sacrosanta paura come dicevo metterà sacrosanta paura ai politici in particolar modo quelli degli Stati Uniti quindi buona fortuna per la vostra dichiarazione di indipendenza allora cosa succede al mio conto in banca cosa succederà ai miei risparmi in banca cosa succederà ai miei risparmi nei negozi per favore diteci qualcosa a questo proposito è quello che stanno chiedendo i partecipanti queste sono le domande che mi arrivano allora che cosa sta accadendo ora che cosa sta accadendo ora avete perso il vostro potere e vi tengono totalmente in pugno a causa di due motivi che Stefani ha già spiegato non vi è consentito avere delle politiche che consentano di dare lavoro alla gente perché il mercato delle obbligazioni vi distruggerà e non vi è consentito di fare intervenire il governo a causa del patto di crescita e stabilità ma entrambi questi punti di leva provengono dall'euro quello è l'unico motivo per cui hanno qualsivoglia potere con una valuta sovrana che è libera di galleggiare i mercati obbligazionari vi lasceranno stare e andranno ad attaccare le persone dei paesi che utilizzano l'euro non c'è nessun motivo perché un patto di crescita e di stabilità sia imposto a voi se non siete nell'euro è l'unico motivo per cui esiste perché c'è l'euro quindi anche esso sparirà in questo modo appunto vi libererete di questa morsa quello che vi ha mostrato Stefani per quanto riguarda il funzionamento dei vostri negozi delle vostre attività commerciali consiste nella creazione di un sistema in cui non c'è alternativa dove hanno ristretto 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 sempre più il potere degli stati proprio per rimuovere qualsiasi alternativa quindi che cosa succede nel vostro negozio sotto casa dopo avere ricreato la lira dopo essere ritornati alla lira beh questo dipende da quanto altro farete in quale misura riuscirete ad adottare proficuamente le teorie del pensiero post-kenesiano ridando lavoro alla gente ridando lavoro alla gente queste persone avranno soldi e quindi potranno venire nel vostro negozio a comprare beni e poi potrete anche assumere dei dipendenti questo si chiama recupero economico questo si chiama un governo che lavora davvero per la gente e serve gli interessi delle sue persone produce inflazione beh guardate cosa accade negli Stati Uniti guardate al Giappone il Giappone ha un rapporto debito PIL che è il doppio essenzialmente di quello dell'Italia non c'è inflazione può prendere in prestito denaro a costo praticamente zero gli Stati Uniti dopo il downgrading delle agenzie di rating può prendere in prestito denaro per somme praticamente pari a zero gli Stati Uniti poiché non hanno adottato misure di austerità stanno crescendo ora io non so se questa barzelletta funzionerà anche in italiano ma noi diciamo del patto di crescita e di stabilità che è un ossimoro una contraddizione in termini prodotta da farabutti normali che in inglese si chiamano morons e quindi rima con oxymoron come vi ha mostrato Stefani questo non induce stabilità produce recessioni ricorrenti e poi quando reagiscono alla recessione la peggiorano ulteriormente con misure di austerità e quindi non siamo di fronte a un patto di crescita ma un patto di decrescita che fa calare l'economia anziché spingerla verso la crescita e c'è solo una cosa che è rimasta diciamo ancora nell'ambito politico tutti noi contemporaneamente dobbiamo competere per le esportazioni per esportare innanzitutto è impossibile perché è appunto una contraddizione ma in secondo luogo questa gara è proprio quello che vogliono loro è quello che vi abbiamo spiegato perché questa è quella che viene chiamata la strada per il Bangladesh questo intento i tedeschi non sono stati vincitori di questa politica di tagli i lavoratori o meglio i redditi reali dei lavoratori sono diminuiti anche essi sono solo i banchieri e i grandi industriali tedeschi a guadagnarci e il resto dell'Europa non ha dei livelli di produttività nemmeno vicini a quelli della Germania quindi l'unico modo per poter competere in questo quadro strategico è di avere dei redditi pari a un quarto di un lavoratore tedesco quindi quando siamo stati in Irlanda la strategia di governo ha consistito nel tagliare i salari irlandesi in modo che possano essere più competitivi rispetto al Portogallo ma se andate in Portogallo la strategia è di tagliare i redditi in modo da poter essere più competitivi dei greci e se andate in Grecia la strategia è di tagliare gli stipendi in modo da poter essere più competitivi della Turchia e la Turchia sta cercando di essere più competitiva della Cina e presto la Cina cercherà di essere più competitiva del Vietnam e come vi dicevo il messaggio finale di tutto ciò è che voi effettivamente vi ritroverete in Zimbabwe o in Bangladesh non a causa dell'iperinflazione ma a causa di questi ipertagli nei salari dei lavoratori quindi per far ritornare clienti al vostro negozio se vi sbarazzate dell'euro e seguite le strategie di cui vi abbiamo parlato avrete un negozio che guadagna di più perché ha più clienti perché voi e tutti gli altri pagano i propri dipendenti a sufficienza per poter vivere comprare cose in modo da far aumentare la domanda da fare aumentare l'occupazione questo può indurre un'iperinflazione ovviamente è possibile che induca iperinflazione quindi è necessario dotare politiche intelligenti ma non è necessario che ci sia un'inflazione preoccupante anche se onestamente una piccola inflazione può essere addirittura proficua per una ripresa bill ha parlato dell'industria tedesca del fatto che ha un'eccedenza è in positivo quindi che cosa succede se l'europa o la germania hanno un bilancio in positivo in cambio ottengono dei dollari e i dollari come è stato fatto notare sono scambiati come moneta fiat per gonfiare l'economia americana per farla crescere quindi a livello mondiale l'Europa sta appoggiando lo Zimbabue sta appoggiando gli Stati Uniti e tutti gli altri paesi questo governo sta stampando la propria valuta e ha il proprio deficit quindi siete all'interno di un sistema fiat ma il sistema del dollaro in base al quale voi pagate il vostro deficit quindi il sistema è stato progettato per mettere fuori gioco il vostro sistema e promuovere gli Stati Uniti in modo che questi investitori possano venire a comprare la Siemens la Siemens è in pratica nelle mani di investitori statunitensi la Siemens non paga le tasse tedesche e quindi possono fare praticamente quello che vogliono con le società tedesche mettiamo tutto questo a livello internazionale e vediamo che in pratica l'intento è quello di beneficiare altri paesi mentre voi volete la vostra indipendenza in modo che il vostro lavoro vada a sostegno vostro vorrei aggiungere un breve commento per quanto riguarda la vita degli italiani della strada il sistema attuale impone una banca rotta a tutte le piccole aziende i centri commerciali sono sempre più vuoti perché le persone non si possono più permettere di acquistare e c'è anche di peggio in tutta l'Europa sotto il dominio del mercato il settore privato è diventato una sorta di parassita i prezzi non stanno calando quindi il patto di crescita e stabilità che è stato rafforzato con il nuovo trattato potrebbe in realtà essere rinominato il patto di instabilità e crisi e da ultimo l'unica reazione del sistema consiste nell'utilizzare il gas lacrimogeno come in Grecia e come in molti altri paesi si tratta di una politica che come ho scritto in un mio recente saggio rappresenta una politica di sacrificio umano paragonabile paragonabile al culto del sacrificio umano dell'impero asteca ok allora visto che sono il capo ho il privilegio di fare le domande allora Stefani abbiamo il caso dell'argentina c'è stato il default in argentina e avete fatto un ottimo lavoro voi come economista dell'MMT in argentina poi il lavoro è anche finito a un certo punto però avete fatto un grande lavoro abbiamo quell'esperienza vogliamo dare un'idea seguendo proprio il caso dell'argentina di come è riuscito questo paese a uscire da un default catastrofico a livello di famiglie strade negozi risparmi banche eccetera vogliamo dare un'idea di giorno dopo giorno cosa è successo perché il caso argentino è veramente importante è l'unico che abbiamo con cui possiamo raffrontarci perché qui c'è la paura il terrore del default giorno dopo siamo in Congo la differenza rispetto all'argentina sta nel fatto che l'argentina ha fatto default ma non ha dovuto lanciare una nuova valuta ha svalutato la sua precedente valuta quindi in argentina la situazione era diventata talmente insopportabile con l'austerità dell'FMI da far ritrovare il paese in una situazione in cui praticamente non c'era nessun partito votabile elegibile e questo ha creato il prerequisito che ha reso un fallimento argentino e una svalutazione argentina possibile ciò che era inimmaginabile prima è diventato possibile perché la situazione era peggiorata così terribilmente l'argentina era diventata praticamente un failed state uno stato fallito ma ciò che ha funzionato veramente in argentina non è stato il default quanto piuttosto la svalutazione in argentina hanno svalutato la valuta del 65% facendo una media ponderata rispetto al resto del mondo se accadesse ciò nei paesi dell'Europa meridionale io prevedo che il modello commerciale sarebbe magari un crollo di massa per un certo periodo alla fine i paesi potrebbero stare meglio ma starebbero meglio alla fine con la loro valuta quindi mi sembra che l'esempio più calzante in realtà non sia quello argentino per quello di cui stiamo parlando e per quello che l'Italia potrebbe un giorno decidere di fare quanto piuttosto la Slovenia perché la Slovenia si è ritirata e ha lanciato la propria nuova valuta quando eravamo in Irlanda come menzionava Bill molti 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 sono venuti a chiederci la stessa domanda che ci state facendo voi se fosse facile probabilmente la Grecia l'avrebbe già fatto tutti vogliono sapere come uscire Marshall ha parlato di una riprogrammazione dei computer ma non c'è il pulsante per ritornare indietro con l'euro quindi non è facile e nessuno di noi qui ha mai redatto un programma per un paese stabilendo i passi necessari per ritirarsi da un'unione monetaria e lanciare la propria valuta quindi io non so se nessuno tra di noi qui presenti può rispondere alle domande dettagliate che voi avete con grande ragione sottoposto ma io so chi invece vi potrebbe rispondere so chi ha redatto il piano sloveno quindi perché non ci incontriamo la prossima settimana lo invitiamo ovviamente sto scherzando però per avere questo genere di parere vi serve qualcuno di diverso rispetto alle cinque persone sedute a questo tavolo oggi però sicuramente ci vuole un'attenta pianificazione e da quanto mi è parso di capire la persona che ha redatto questo piano per il ritiro sloveno ha programmato con sei mesi di anticipo in modo da avere tutto pronto conti transizioni decisioni su quando convertire i conti bancari il debito eccetera tutte quelle domande che ha sollevato Paolo e che avete sollevato anche voi sono tutte questioni che sono state affrontate anche in un passato estremamente recente quindi possiamo trovare una risposta alle vostre domande ma purtroppo non so se nessuno tra noi qui presenti vi può dare delle risposte adeguate oggi un chiarimento non è stato il default ad aver causato la crisi in Argentina l'economia è crollata a causa di una mancanza di default se vogliamo no no certo è stata l'austerità dell'FMI e il fatto che l'Argentina avesse agganciato il valore del peso a quello del dollaro per cui è andata a creare una situazione analoga a quella dell'euro che è finita con un bailout del Fondo Monetario Internazionale a un prezzo perché il dollaro si rivalutava e questo rendeva sempre più difficile per l'Argentina esportare e quindi essenzialmente il Brasile ha distrutto l'Argentina a livello di mercati di esportazione e l'Argentina è passata dall'essere una nazione del primo mondo ad essere una nazione del terzo mondo a causa di questi prezzi elevati come diceva Stefani c'è stata quindi il default la svalutazione e la riaduzione di una moneta sovrana che ha consentito all'Argentina di riprendersi ma dei fatti chiave sono il default c'è stato non possono ancora contrarre prestiti in termini tradizionali come diceva Marshall ci sono ancora delle sfumature ma hanno raggiunto una crescita superiore al 6% oramai da 15 anni a questa parte quindi sì ci sono dei problemi non è facile non è una procedura snella e pulita ma è sicuramente una procedura di grande successo Stefani ha assolutamente ragione nell'affermare che vi è un numero enorme di fasi tecniche che devono caratterizzare una transizione in uscita dall'euro verso una nuova lira molti di voi hanno un'età sufficiente da ricordare che ci sono stati mesi di preparazione per passare dalla lira all'euro che prima i soldi venivano portati in banca ci sono stati dei programmi di formazione su come tutto avrebbe funzionato eccetera e ci sono anche delle questioni collegate alla riprogrammazione eccetera vi posso comunque dire che la domanda essenziale è quella diciamo riassunta da Marshall l'Italia anzi innanzitutto non c'è una soluzione universale l'Italia si trova in una posizione in cui recuperando la propria sovranità può decidere se vuole fare default oppure no voi non siete come la Grecia la Grecia farà default l'Irlanda farà default a meno che non smetta di fare la pazza il Portogallo farà default a meno che non continui a essere pazzo l'Italia è un paese molto più ricco se scegliete di fare default la situazione sarà più confusa e quindi sarà necessario un piano diverso dovete anche ricordare che si tratta di un negoziato e immagino che la maggior parte dei presenti in sala hanno già negoziato in passato quindi dovete essere pronti a fare default non si può semplicemente minacciare di farlo senza avere la capacità e un piano per farlo a meno che non sappiate appunto cosa fare c'è un problema però uno degli esponenti più di spicco dell'MMT Warren Mosler a tempo fa pubblicò e molta gente qui legge queste cose perché io poi le trasmetto al pubblico italiano ma pubblicò una sua proposta che è una cosa del genere per l'uscita il default dall'euro e essendo Warren Mosler non certamente uno degli studenti dell'MMT ma credo uno dei padri creatori ecco questo contrasta molto fortemente con la vostra posizione che mi sorprende perché leggendo questa cosa che anche Randall Ray ha ripreso e rilanciato sembrava veramente che secondo la Modern Money Theory ci potesse essere uno schema piuttosto semplice e efficace per uscire dall'Unione Monetaria ecco mi sembra che queste due cose vadano chiarite e questo contrasto vada chiarito anche perché se no rischiamo di creare poi un problema di credibilità dell'MMT da parte di qualcuno che dice alcune cose qualcun'altro ne dice delle altre se alcune persone facinano un'estatement e altre persone facinano un'estatement volevo iniziare subito dicendo che la maggioranza delle cose che ho suggerito stamane si basavano ampiamente sulla proposta di Warren non sto cercando di avanzare la proposta in base alla quale la proposta mia di Warren non possa funzionare ma voglio solamente dire che ci saranno dei problemi operativamente difficili operativamente fattibili quello che dice Warren ma quello che voglio dire non è una cosa che si possa decidere così sull'impulso di un momento non si verifica dal giorno alla notte ci vuole una pianificazione ci saranno dei negoziati ci saranno dei problemi e delle controversie è molto difficile trasmettere tutto questo in un post in un blog è fattibile ma sarebbe disonesto da parte nostra dire che si possa fare in maniera indolore senza nessun aggiustamento e senza nessun impatto economico voglio aggiungere io e Marshall siamo sempre a contatto con Warren ci sentiamo varie volte al giorno lo conosciamo molto bene e sappiamo qual è la soluzione che lui preferisce all'attuale problema di crisi dell'assolvibilità e lo sappiamo chiaramente e lo sappiamo da tempo quello che diceva Paolo è una cosa che Warren ha scritto in risposta a qualcosa che gli aveva mandato una persona che diceva gli europei hanno bisogno di individuare un piano di default e quindi lui ha scritto i suoi pensieri volevano un piano d'uscita e ne ha prodotto una ha prodotto qualcosa ma il suo piano preferito quello che continua a portare avanti è che la banca europea centrale sapete il vecchio la vecchia barzelletta perché l'uomo ha rapinato la banca perché è lì che stanno i soldi ecco la soluzione secondo Warren è sempre stata semplice e indolore a differenza di una grande default Warren ha sempre detto che il problema si può risolvere in 5 minuti cioè se la banca centrale europea scrive un assegno lo firma e sapete perché perché è lì che stanno i soldi non possono venire da voi e i greci e i portoghesi e gli irlandesi e imporre l'austerità e schiacciare le loro economie cercando di continuare a portare avanti l'euro imporre l'argente perché gli effetti finiranno per distruggere l'unione europea la soluzione la soluzione è quella di avere cioè quello che crea i soldi li crei e la smetta di cercare di prenderseli da chiusa la valuta e quindi Marshall ha parlato brevemente di questo posso ripetere il pensiero di Warren cioè la banca centrale europea annualmente dovrebbe dare un contributo uguale a circa il 10% del pil dell'eurozona per darlo a ciascun membro dell'unione monetaria europea i fondi sarebbero divisi su base pro capite in maniera che la Germania riceverebbe ovviamente la fetta più cospicua e quindi non sarebbe considerato come bailout come salvataggio tutti avrebbero una fetta a prescindere dall'entità del proprio deficit o della propria eccedenza e questo avverrebbe su base annua è praticamente un sistema di distribuzione del reddito che viene dall'unica entità all'interno dell'unione monetaria europea in grado di creare l'euro quindi darvi le risorse finanziarie che il governo possa utilizzare per gestire dei programmi sistemi di garanzia dell'occupazione tutto quello di cui ci sia bisogno in diversi paesi comunque risolve immediatamente il problema di solvibilità che è appunto quello che vi sta schiacciando oggi quindi praticamente vi toglie di dosso i mercati dei titoli alleggerisce la pressione e se questo avviene il vostro debito sarà più gestibile sarà più sostenibile e quindi sarà gestibile senza una default prima scusate prima scusa Bill prima di passare la parola all'ambola a parlare ma c'è un ultimo punto che devo dire sempre su questo tema poi possiamo continuare col flusso due cose quando noi qui in Italia che cerchiamo di portare avanti questa idea MMT e tutti i suoi aspetti parliamo per esempio del caso argentino ci viene spesso risposto dai critici ah ma guardate adesso l'Argentina è distrutta dall'inflazione che cosa ha fatto la MMT eccetera eccetera questa è una cosa che vorremmo che voi rispondeste ma il secondo punto torno più sullo specifico del default all'euro io ho posto a Randy Ray la questione del mio mutuo che cosa mi succede se facciamo default io ho un mutuo con la mia banca cosa succede al mio mutuo e lui diede una risposta e credo di ricordarmela con molta precisione la posso riportare fuori dalle email disse questo non è un problema è lo Stato che si assume la responsabilità della tua casa ricomprandola o addirittura del tuo mutuo completamente ecco volevo che voi confermaste questa opinione di Randy Ray sul discorso del mutuo perché è una cosa che abbiamo un po' tutti come ansia e poi il discorso dell'inflazione argentina grazie tu hai parlato del mio carissimo amico Warren Mosler ho avuto molte discussioni con lui e penso che siamo d'accordo su un punto fondamentale dobbiamo fare un'attenta distinzione fra due problemi il primo è quello della default e il secondo è quello di lasciare l'unione monetaria e ricreare il proprio paese perché la Grecia è condannata al default perché perché la Grecia essendo sempre è più sotto pressione dal punto di vista della disponibilità delle risorse in euro non ha più la possibilità di rimborsare anche una parte del proprio debito ma se l'Italia lasciasse il sistema recuperasse la propria sovranità monetaria il governo italiano non si troverebbe più schiacciato in relazione alla disponibilità di risorse utilizzabili e pertanto potrebbe utilizzare una parte della nuova moneta per rimborsare una quota di debito di debito accumulato in euro e le banche sarebbero assolutamente soddisfatte di una situazione di questo tipo quindi io non mi aspetto nessuna catastrofe l'Italia non è la Grecia lo ripeto un altro punto è questo ieri e ho fatto questa discussione anche con Warren Mosler mi riferisco alla questione dei risparmi ne abbiamo parlato nella gran parte dei paesi europei anche in Germania la gente comune non riesce più a risparmiare la gente si indebita sempre di più e non mi riferisco all'acquisto di beni di lusso ma si sta parlando di mera sopravvivenza quindi io non mi aspetto nessuna catastrofe il nuovo sistema generando dei deficit produttivi permetterebbe di ricreare la possibilità all'Italia e ai suoi cittadini di accumulare dei risparmi ricreando e reintroducendo una politica di pensioni sufficienti a sopravvivere non sarebbe quindi più necessario ridurre la spesa obbligando la gente ad attingere i propri risparmi per sopravvivere anche dopo la pensione l'idea di Warren è molto interessante dal punto di vista della discussione che abbiamo fatto ieri anche con Alain Warren sottolinea che c'è un'alternativa anche nella struttura così distrutta e distorta attuale la banca centrale europea come ente che emette de fatto la valuta potrebbe agire da sovrana cioè potrebbe fornire i fondi necessari alla ripresa e la banca centrale europea sa di avere questa capacità e quello che diceva Alain è che non vogliono utilizzare questa capacità per aiutare i cittadini europei c'è un'alternativa anche in questa situazione fortemente distorta e si rifiutano di utilizzarla e Draghi nella sua intervista sul Wall Street Journal due giorni fa ha fatto esplicitamente menzione di questo difatti ha detto il modello europeo è morto e sepolto il modello sociale e diceva che avrebbe voluto che il settore privato e le banche disciplinassero il governo e adesso vorrei ritornare alla domanda di Paolo che succede e qui si parla effettivamente di svalutazione e ci sono due punti una è la questione di cui abbiamo parlato prima la Lettonia in Lettonia si sarebbe potuto contrarre un prestito in valuta locale o in euro e il tasso di interesse sui mutui era molto inferiore rispetto in euro e quindi la gente contraeva prestiti in euro e quindi era diventato molto difficile poi ripagare i mutui si è successo anche in Islanda anche in Islanda è successo quindi si ha un problema generale se tornate alla lira se l'Europa continua ad avere l'euro esporreste i vostri consumatori a dei grossi rischi valutari potenziali e questo esporrebbe le banche locali che concedono presidi denominati in euro ha notevoli rischi in materia di credito quindi in futuro bisognerebbe pensare ad una situazione in cui le banche italiane possano concedere mutui in lire non in euro e quindi questo parlando del futuro la questione che riguarda voi questo è il punto fondamentale ci sono molte questioni che vi dovete porre e l'Italia deve prendere le proprie decisioni su come vuole gestire il proprio sistema finanziario non esiste un piano preordinato che ci dica come agire la seconda questione che cosa fare del mio mutuo che è già in euro se si torna alla lira e se si decide come l'argentina di svalutare il punto di Randy a questo riguardo è che se questo porta a grossi problemi nella capacità di ripagare allora il governo dovrebbe intervenire attingendo alle risorse di cui si parla e di cui c'è disponibilità se si tratti in un paese a moneta sovrana e risolvere il problema invece di lasciare che milioni di italiani vadano alla deriva e questa è una cosa su cui siamo tutti molto d'accordo c'è un certo consenso ecco e qualcuno che è stato in Lettonia forse mi può dire perché mi sbaglio a riguardo io sono ex professore della facoltà di diritto dell'università di riga e consulente di una grossa coalizione politica la Lettonia non ha svalutato la propria valuta contro l'euro è rimasta all'interno della camicia di forza dell'euro il problema di cui si trova di fronte è esattamente quello che ha detto il professore Black che cosa si fa se si ha un mutuo denominato in euro oppure in sterlino in dollari e la valuta non c'è più allora io ho richiesto la consulenza di un giurista e la risposta è molto semplice innanzitutto la Lettonia ridenomina tutti i mutui nella propria valuta nazionale dopodiché concede prestiti nella valuta nazionale qualunque governo sovrano è in grado di fare quello che aveva fatto Roosevelt negli Stati Uniti nel 1933 i contratti in America avevano una clausola che diceva che il creditore aveva il diritto a riscuotere il valore in oro il presidente Roosevelt semplicemente diceva siamo l'America noi possiamo annullare questa clausola del valore in oro e John Maynard Keynes a Londra scrisse un articolo che diceva il presidente Roosevelt ha assolutamente ragione la Lettonia e l'Italia hanno la stessa opzione potete annullare la clausola sulla valuta estera dei vostri mutui nei vostri prestiti personali nei vostri prestiti commerciali denominate semplicemente tutti i mutui nella vostra valuta secondo il diritto internazionale questo è fattibile quindi seguite il modello americano Paolo mi ha chiesto di fare qualche altro commento sulla proposta di Randy sui mutui non è una cosa che noi confermiamo qui infatti siamo stati a favore di questo anche negli Stati Uniti fra l'altro anche noi abbiamo dei problemi sul nostro mercato dei mutui milioni milioni di americani noi diciamo che sono sott'acqua in casa è un'espressione che usiamo noi cioè praticamente devono più soldi con il mutuo di quanto non sia più il valore della proprietà che possiedono e penso che questa situazione sia molto simile alla vostra scusate sto sbagliando anche i nomi ho detto Mario invece che Marshall io e Marshall abbiamo studiato il tasso di crescita del debito del settore privato in Italia negli ultimi dieci anni e abbiamo fatto un confronto fra il tasso di crescita del settore privato e il suo debito e quello pubblico abbiamo considerato l'Italia dal 2000 al 2010 e abbiamo visto questo il settore privato e il suo debito sono aumentati solamente in misura molto limitata nel corso di questi anni mentre invece il debito del settore privato ha lievitato enormemente quindi il problema di mutui fa parte di questo però non è tutto ovviamente e quello che probabilmente dovete fare è quello che devono fare anche molti paesi del resto del mondo anche negli Stati Uniti cioè fare una ristrutturazione immediata quindi una svalutazione del debito per renderlo fattibile affrontabile da parte dell'agente che non se lo può permettere non lo può affrontare adesso per cui se decidete di lasciare l'euro e lanciare la propria valuta la vostra valuta questi debiti dovranno essere ridenominati e potranno essere svalutati e quindi sarà una decisione poi del governo italiano vedere di quanto svalutare una delle proposte che noi sentiamo circolare negli Stati Uniti e che alcuni economisti del MMT hanno sostenuto è che le case attualmente assoggettate a questa situazione potrebbero essere acquistate in un prezzo di mercato eco da parte del governo e poi ridate riconcesse ai proprietari precedenti nel tempo per cui non perderebbero la casa non dovrebbero alterare la propria famiglia così radicalmente gli si concederebbe dei pagamenti che potessero affrontare e che gli permettessero alla fine di riacquistare la proprietà dell'immobile ma in termini molto diversi da quelli attualmente vigenti un ultimo punto intanto un break vi rendete conto di cosa stiamo trattando in questi giorni non è il tesoretto di un partito è il destino di un intero paese non c'è un media nazionale che ci sta seguendo non neanche uno e gli hanno proibito di venire incredibile va bene ok Argentina inflation aiutateci a rispondere alla critica che nonostante il piano Jeffes l'Argentina oggi ha un'inflazione terribile guardate è stato un fallimento eccetera eccetera solo a questo punto per aiutarci a rispondere a questo tipo di obiezioni la risposta breve è che non hanno mantenuto il programma di garanzia dell'occupazione quindi come diceva Stefani ieri si limitava ai capi famiglia questo programma ma avrebbe dovuto essere offerto a tutti e quindi io penso che è stato smantellato cinque anni fa se non mi sbaglio l'unica altra cosa che vorrei sottolineare è che anche in presenza di inflazione l'Argentina ha continuato a crescere fra il 6 e il 10% all'anno negli ultimi dieci anni e quindi è una bella differenza rispetto a quello che succedeva negli anni 90 nel marco nel contesto del programma sponsorizzato dal Fondo Monetario Internazionale e poi c'è una notevole componente anche di inflazione correlata alle materie prime e questo è importante da considerare soprattutto il rapporto alla finanziarizzazione delle materie prime le banche hanno speculato molto sul petrolio spesso dei generi alimentari e ovviamente questo ha svolto un ruolo molto importante nella creazione di una inflazione anche nell'ambito delle materie prime e questa è una questione che ci riporta alla regolamentazione finanziaria in generale quindi non è specifica per l'Argentina marshal ci sono degli alti tassi di crescita in Argentina che il paese è riuscito a raggiungere e questo è stato dovuto al fatto che l'Argentina ha fatto default in un contesto di un'economia mondiale in esplosione del boom dell'economia mondiale ieri si è parlato della possibilità di default di uscita dall'euro però in un contesto economico globale invece di crisi sull'orlo di un'altra recessione quindi molto diverso mentre il resto del mondo ha contribuito a risollevare l'Argentina a quel tempo adesso questa stessa possibilità non ci sarebbe ma con una valuta sovrana e l'MMT la possibilità di strutturare una vostra politica economica creare la piena occupazione nel paese sostenendo il reddito per i cittadini italiani esiste vi potrete risollevare grazie 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 grazie